Durante il corso della nostra vita attraversiamo tutti i tipi di stagioni, alcune più produttive di altre, alcune possono portarci a dubitare del ritorno della primavera. È un po' come un campo nella sua gloria più splendente, api e farfalle che svolazzano, gli uccelli che cantano, c'è vita. Ma ritorna nello stesso posto dopo qualche mese e tutto è immobile arso dal calore e qualche tempo dopo, in inverno per esempio, lo stesso campo potrebbe essere coperto di neve e al di sotto l'erba ingiallita e rovinata. Ti senti in una stagione in cui tutto sembra morto o inattesa? Qualunque sia la stagione in cui ti trovi, sappi che non sei solo. Gesù ha detto, io sono con te, caro amico, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Matteo 28,20. E Dio desidera per te che tu possa entrare in una stagione in cui portare frutto, buon frutto per lui. Caro amico, sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Salmo 1,3. Io dichiaro queste cose per la tua vita. La primavera è dietro l'angolo, non è lontana. Come i primi boccioli, i primi germogli che spuntano dal terreno, quando arriva il momento giusto, anche tu sperimenterai la primavera di Dio. Dio vuole che tu entri in una nuova stagione. Aspetta con fiducia e pazienza. Lui agirà. Grazie di esistere. Eric Sellerie